La campagna elettorale per le regionali della campagna è giunta al termine. Qual è il suo bilancio? Come l'ha vissuta? Beh, è una campagna elettorale bellissima, a tratti emozionanti, coinvolgente. Purtroppo avremmo voluto fare molto di più, ma a causa Covid abbiamo avuto le difficoltà nell'interagire nelle piazze, nel contenersi, nell'andare nelle case e stringere la mano agli elettori. Abbiamo attraversato costantemente ed ogni giorno l'intero territorio della provincia di Caserta, scoprendo dei posti incantevoli, raccogliendo le istanze polemiche anche che potevano venire dai territori, ascoltando quelle che erano le gioie, quelle che erano le informazioni e soprattutto i desideri e le speranze di una regione campagna migliore al seguito della scelta della nuova classe dirigente. Lei ha toccato quasi tutti i comuni di provincia di Caserta, ha parlato con migliaia di persone. Quali sono le istanze più pressanti che partono dal basso? Cosa chiede la gente alle istituzioni e alla politica? La cosa che mi ha più colpito è un po' la disillusione nei confronti delle istituzioni. Spesso, soprattutto, i più giovani sono completamente lontani dalla politica, quasi disinteressati. Questo è stato il dato che mi ha toccato di più perché noi dovremmo avvicinare proprio la classe più giovane per dare l'infa vitale comunque alla politica. Abbiamo attraversato questa campagna elettorale in un periodo particolare post-Covid e ovviamente, soprattutto nelle aziende che ho visitato, nelle parole dei lavoratori, ho visto sempre tanto dolore, tanta sofferenza, tanta paura e soprattutto tante speranze per una ripresa migliore rispetto a ciò che si sta verificando post-Covid, anche in relazione all'economia. Faccia un appello al voto. Perché votare per Italia Viva? Perché votare per Luigi Amartino? Innanzitutto andare a votare. Determinante il mio appello è proprio questo, quello di chiedere alle persone di recarsi nelle urne perché credo ancora nel potere della matita. Io penso che ogni soggetto debba esprimere quando è chiamato al voto la propria preferenza scegliendo soprattutto la competenza, ritornando a dare valore al voto e non un prezzo. Perché soltanto con quel potere che si esercita all'interno della cabina elettorale noi abbiamo la responsabilità della scelta della nuova classe dirigente. Perché poi dobbiamo evitare di venirci a lamentare che le cose non possano cambiare se non facciamo una scelta di competenza sensata e anche di cuore e di pura passione. Quindi l'appello principale è di decarsi alle urne. Soprattutto mi appello a quelle persone che sembrano essere più lontane e un po' illuse, come dire, dalla politica. Italia Viva perché? Italia Viva è un progetto nuovo, concreto. I coordinamenti di Italia Viva hanno messo in campo comunque una squadra competitiva che già ha un lavoro, come dire, quindi non fa la politica per professione ma semplicemente per passione. Luigia Martino perché sono 13 anni che milito, lo faccio con forza, con coraggio, con determinazione e soprattutto per mettere la mia persona a servizio della comunità per un miglioramento costante della strada che già abbiamo intrapreso con il governo De Luca che dobbiamo continuare a percorrere e soprattutto che dobbiamo migliorare.